ciao e oggi vediamo il punto la capacità di perdonare impara a perdonare allora la capacità di perdonare presuppone empatia verso l'altra persona e quindi anche la capacità di mettersi nei panni altrui di mettersi nella posizione altrui la capacità di perdonare presuppone quindi elasticità il non irrigidirsi troppo su ciò che si pensa di essere perché spesso ci si racconta di essere in un determinato modo per troppi anni in realtà noi tutti siamo in trasformazione costante siamo molto resilienti di fronte agli ostacoli di fronte ai alle sole sollecitazioni esterne incluse le esperienze naturalmente l'interazione con gli altri per cui è importante riuscire a immaginare di poter accettare come valido il sentire altrui e ciò non significa giustificarlo e non significa doverlo condividere però accettarlo come reale e valido e rendersi conto che quasi nessuno fa le cose per farci stare male cioè per rovinarci la vita o per fare un rispetto a noi quindi quasi nulla in realtà è personale anche se si tende tutti dalla prima infanzia in poi ci siamo segnati determinati traumi determinate ferite e si tende a leggere tutto come se venisse fatto a nostro danno o venisse fatto per ferirci in realtà ogni persona sta combattendo la propria battaglia sta andando per la propria strada il proprio film e sapere questo aiuta molto nella capacità di perdonare la capacità di perdonare comunque non esula da un percorso in cui vi devono essere dei passi vi devono essere delle tappe per cui non giudichiamo la nostra rabbia non giudichiamo i momenti in cui riteniamo impossibile perdonare qualcosa sono fasi a cui deve essere dato spazio tempo senza nessuna forzatura per cui tutte queste scuole di pensiero moderne pseudo new age pseudo spirituali che adesso professano il perdono in lungo in largo in realtà molto spesso sono poco pratiche perché tendono a demonizzare il nostro sentire il sentire di una persona che è stata tradita ferita o comunque tradita nella fiducia e che ha bisogno di esprimersi che ha diritto a prendere il proprio spazio e a manifestarsi nella rabbia nella chiusura anche le fasi sono tante sono anche descritte dagli psicologi e a questo dedicherò probabilmente un articolo più avanti non al maschile ma che riguardi tutti questo non toglie che lentamente e con gli step propri della natura della nostra natura si possa arrivare attraverso la capacità di resilienza e di trasformazione e di flessibilità davvero a mantenere intatti i propri valori o comunque il proprio allineamento non la propria centratura pura riuscendo a concedere realtà agli altri a concedere validità agli altri anche per naturalmente atteggiamenti atti azioni che noi non compieremo mai che noi non farebbero parte del nostro karma del nostro vissuto della nostra sensibilità però la capacità di perdonare è insita in tutti noi naturalmente previo questo percorso di cui vi parlavo questi con tutti i suoi passi sui passaggi quando si arriva a questa capacità a esercitare il perdono si svolge anche una liberazione un atto di liberazione non soltanto di giudizio verso l'altra persona ma soprattutto per se stessi perché ci si libera proprio si apposa a terra una corazza un'armatura o comunque dei pesi che ci portavano via energia molto spesso non eravamo nemmeno consapevoli il mantenere qualcosa di aperto a livello di rancore di anche rigidità rigidità in tutti i sensi la non accettazione il problema umano maggiore sempre la disconnessione dagli altri e la non accettazione quindi creiamo attrito e questo purtroppo è quello che risucchia gran parte delle nostre energie che invece dovrebbero andare nello stare bene nel continuare a espanderci ed espanderci vuol dire anche accogliere l'altro quindi accogliere la possibilità che qualcuno abbia fatto detto la tal cosa senza bisogno di comprenderla di essere d'accordo è possibile comunque quindi impara a perdonare include tutto questo spero di avervi dato un po di nuovo di avervi aperto un po di finestrelle pur nella semplicità di queste chi che così come ho voluto creare il decalogo del maschile sacro che poi possono tutte essere sviluppate in discorsi successivi e anche posso aggiungervene tante lo sto già facendo a parte per un eventuale secondo testo il maschile sacro numero due una cosa del genere e vi dico l'ultima cosa le stesse capacità le stesse caratteristiche che ci permettono di perdonare sono anche quelle che ci possono permettere di chiedere scusa provate a pensarci flessibilità l'umiltà il la capacità di includere il campo altrui il punto di vista altrui e non imporre solo la nostra indole la nostra forma mentis la nostra natura però questo è un argomento che svilupperò eventualmente in futuro vi ringrazio di nuovo dell'ascolto ci vediamo al prossimo punto ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale